Cari amici buongiorno, oggi parleremo di tormalina verde. Vi faccio vedere, eccola, però se io vi metto la luce, vedete, ha un colore proprio verde particolare. Poi chiaramente dipende, cioè ha più verde, meno verde, eccetera. Ecco, penso che la vediate. Ok, oltre a questa c'è anche questa, è più densa, però è sempre, eccola, si vede bene così. Ok, e poi c'è quest'altra che è una terminata, terminata cosa vuol dire? Che finisce con la punta, è un cristallino piccolo, però terminato e vedete che è verde. Ok, allora, a parte questo, vi parlerò un attimo di queste tormaline che per me sono magiche. Allora, la tormalina verde è un silicato complesso, cioè un boro silicato di alluminio e cristallizza nel sistema romboedrico e la sua durezza sulla scala di moss è dai 7,7,5, quindi insomma si riesce a lavorare bene. Possiede una lucentezza vitrea, come avete visto, no? È bella, lucente, e all'apparenza, come potete vedere da qua, spero che riusciate a vedere. Vediamo se riesco di nuovo. Ecco qua, vediamo. Vedete che ha come delle striature, sembra che abbia delle striature, ok? Bene, queste striature non sono altro che dei piccolissimi cristalli prismatici, uno attaccato all'altro, sono proprio come degli aghi, posizionati verticalmente sul cristallo, ok? Cioè così, questa è la crescita del cristallo e così crescono. E questo fa sì che tutte le tormaline abbiano proprio delle proprietà piezoelettriche. Voglio dire che la tormalina lavora in questo senso, qualora compressa, ok? Nel corpo, quando si fanno trattamenti, lavora proprio in questo senso. È ottima per i riequilibri, ad esempio, certi tipi di riequilibri, è fantastica ed è molto veloce, proprio perché ha questa proprietà piezoelettrica che riesce a far sì che l'energia vada dall'alto in basso e viceversa, in modo tale da disperdere questa energia, ok? Da un lato e dall'altro. Quindi ha proprietà, come ho detto prima, piezoelettriche e anche piroelettriche. Sì, piezoelettriche e piroelettriche, cioè se scaldate ha questa proprietà piroelettrica. Se scaldata ha questa proprietà piroelettrica. Dato il colore, che è colore verde, ma le tormaline sono in assoluto le pietre che hanno tutti i colori più o meno dell'arcobaleno, per cui questa è una tormalina verde, spesso chiamata anche verdelite. Si tratta di una pietra largamente usata in cristalloterapia, quando bisogna lavorare sul chakra del cuore, ad esempio, perché va a sbloccare tantissime emozioni e quindi lavora direttamente sulle emozioni. Essendo però prevalentemente maschile, cioè una pietra che c'è, quindi è una pietra yang, non è yin, tra le sue qualità vi sono anche quelle di rendere più forti, resistenti e vitali. E se viene usata assieme al quarzo rosa, riarmonizza e apre il cuore verso l'amore spirituale. La tormalina verde può essere ovviamente di più tonalità, in effetti avete visto, dipende dalla densità anche dei minerali che ha all'interno, quindi se ha più X minerali è molto più densa. Se ne ha un po' di meno ha altri colori, quindi va dal verde olivina, quindi da un verde chiaro, quasi pisello, a un verde molto scuro, bottiglia. E anche tende al verde smeraldo, tant'è vero che spesso era stata confusa anticamente come smeraldo, ok? E quindi tanti imperatori o reali hanno utilizzato la verdelite senza sapere che, pensando di usare dello smeraldo, senza invece rendersi conto che era tormalina. Influisce positivamente sulla nostra vita e porta alla crescita. Si può usare ovviamente in meditazione qualora si voglia connettersi con se stessi oppure con i deva, cioè gli spiriti della natura. Che cosa ha di buono? Attira il successo, pare che attiri il successo, quindi questo può essere interessante. È una pietra che ispira i creativi ed è perfetta se si sta portando avanti un progetto personale, un progetto che si vuole portare a realizzazione. Per esempio si potrebbe trovare un grande supporto da questa pietra qualora si voglia trasformare un hobby, un hobby in business proprio, in lavoro vero e proprio, ecco. La tormalina verde è una buona aiutante anche per i giardinieri e gli erboristi perché non solo rafforza le piante ma ne aumenta anche l'efficacia dal punto di vista della salute. Che benefici ha sul corpo? A livello fisico è una di quelle pietre che aumenta la resistenza perché è bella, forte, ha questa proprietà piezoelettrica e quindi pulisce, ripulisce l'aura e il corpo continuamente. Per questo motivo è ideale per chi pratica sport oppure lavora in un campo dove richiesta una grande forza. Rafforza l'olfatto, allevia la stanchezza cronica, riduce l'esaurimento, stimola la rigenerazione cellulare e lavora sugli squilibri delle cellule in generale. rende più forte il sistema nervoso e quello immunitario e può essere usata per la disintossicazione dell'intestino ed è diciamo utile anche qualunque volta si voglia perdere peso, quindi può aiutare in questi casi. È benefica per la mente perché è un grande antistress, protegge il cuore dagli effetti degenerativi, dai ritmi logoranti della vita di tutti i giorni, dai ritmi faticosi e pesanti. Sostiene in momenti di attività stancanti e provanti e in ogni caso in momenti impegnativi. Aiuta a superare i conflitti emotivi legati alla figura paterna, rilassa la mente e il corpo e non a caso può essere usata con discreti risultati quando si tratta di ridurre la claustrofobia ma anche gli attacchi di panico e delle volte viene consigliata anche ai bambini iperattivi quindi per aiutare i bambini iperattivi e farli rilassare. Aiuta ad affrontare meglio i cambiamenti della vita, quindi se cambiate lavoro, se cambiate casa, qualunque cambiamento della vostra vita, paese, città, stimola proprio l'individuo ad avere un senso di appartenenza anche all'interno della famiglia e ovviamente della comunità che quindi è importante. Vediamo un po' che benefici ha sullo spirito. Sul chakra del cuore ha la capacità di rimuovere i blocchi di antica data quindi cose antiche vecchie le rimuove. In meditazione sul terzo occhio aiuta a ricordare e sciogliere shock datati quindi se avete degli shock che non riuscite a tirar fuori potete lavorarli in questa maniera. Promuove anche la protezione durante il lavoro rituale per chi faccia rituali. Lavora sulle energie e trasforma quella negativa in positiva. Agisce come purificatore e trasporta forza ed energia spirituale. Ne ha molta in effetti. Penso che un angelo per chi ama gli angeli abbinato a questa pietra potrebbe ad esempio essere Raffaele, l'arcangelo Raffaele. Permette di mantenere elevati livelli di coscienza, aiuta a lavorare sull'aura per risolvere squilibri e come tutte le tormaline è una guaritrice che può essere utilizzata per ringiovanire. Se ne può mettere un pezzettino ad esempio all'interno dei vasetti di crema e poi lavorarsi, cioè lasciarla lì e dopo un toto utilizzare la crema e lavorarsi la pelle in questa maniera tramite la crema che fa da veicolo. È un conduttore di forza vitale e promuove la crescita, ricordatevi la crescita, ed è proprio una pietra che nutre le relazioni familiari. È importante ricordare che questa pietra lavora molto bene nel feng shui, feng shui si pronuncia, feng shui, che sarebbe feng shui, scritto. No, feng shui è scritto, feng shui e la pronuncia è feng shui, proprio perché, diciamo, lavora sulla casa perché utilizza l'energia del legno, cioè essendo verde, come la primavera, utilizza l'energia del legno, possiede nel senso l'energia del legno e per questo motivo viene usata in casa proprio per promuovere la crescita e i nuovi inizi, per promuovere l'abbondanza. Si può mettere la pietra in qualunque angolo della stanza e usarla anche nelle stanze dei bambini, è importante. Quindi è un'energia che aiuta l'abbondanza ma anche la crescita. Mi pare di avervi detto tutto. Vi lascio un brevissimo link qui sotto di un video che a mio parere può essere interessante, è breve, non è neanche 50 secondi il video e così potete vedere tutte le gemme dei verdi della tormalina con varie colorazioni, quindi i vari punti di verde che ci sono. Io spero che questo video vi sia servito, abbia magari completato alcune cose che voi sapevate ma che non sapevate del tutto. Spero che vi possa piacere, vi metto il link, vi auguro un ottimo equinozio che oggi pomeriggio alle 16 e mi pare 43 entrerà finalmente a portare l'energia ufficialmente della primavera, anche se per quanto riguarda le energie primaverili noi siamo già entrati con i calendari cinesi all'interno proprio dell'energia della primavera che penso ci sosterrà fino al 5 di maggio secondo l'energia del legno che è appunto quella in cui c'è la grande crescita dei semi e di tutto. Buone equinozio e a presto, vi ringrazio tantissimo e alla prossima, arrivederci.